Qua si mette la gente, io compreso, a camperare E infatti ci sta, c'è il mute Spara per un prefire a destra Oi L'ho visto che però io non stava camperando Stava permettendo solo il mute qua Oh, attenzione, qua ti fanno wallbang Non ha sparato attraverso il muro E infatti hanno rotto Hanno rotto il muro, te l'ho detto Allora, guarda la porta a destra No Dove? Ah, ah, io l'ho vista L'ho vista Nel culo, eh Rimane un nemico Però so, io è una Cioè, un nemico, però in realtà Sono quasi tutti Attività nemica, neutralizzate alla minaccia Deve buttare la smoke Tripla